Io in questo video vi insegno a girare la pasta perché è un video di cucina No vabbè a parte gli scherzi ragazzi che sono qui con questo video molto molto di fretta Vi annuncio che oggi, no almeno ieri, è nato il canale della crew Quindi, semplicemente cosa dovete fare? Vi lascio qui sotto il link in descrizione, vi iscrivete Siamo già quasi a mille, stiamo già spaccando tutto Come fa un canale appena nato a essere a mille iscritti, c'è chi ci impiega anni Niente, noi ci siamo già e quindi speriamo di divertirvi con i nostri video Caricheremo un po' a turni, speriamo di portare almeno un video al giorno con contenuti diversi Ogni membro della crew sarà bene o male attivo con live, gameplay, challenge, parodie O tutto quello che ci verrà in mente, quindi niente, tentatevi di iscrivere e ci partiamo di tutto con il canale